un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele rieccoci di nuovo qui con il fascicolo numero 4 della leggendaria Citroen 2 cavalli Charleston della De Agostini un modello in metallo e plastica in scala 1 a 8 bellissimo ragazzi bellissimo sono proprio contento di aver scelto di fare questa collezione iniziamo subito a dare una vista dei contenuti sia fotografici che della scrittura così chi fosse interessato appunto a leggerli ha la possibilità di farlo ragazzi prima pagina dei servizi lo riprendiamo così che è meglio questo è ovvio che questo che questo che sto facendo vedere adesso quindi il contenuto dei fascicoli è per le persone che non hanno fatto la collezione perché noi che l'abbiamo fatto i fascicoli li abbiamo e ci li leggiamo quando vogliamo quindi ecco è una possibilità che do a loro qualora fossero interessati se non sono interessati basta mandare avanti il messaggio il video ma ragazzi non lo fate perché porta male guardatelo tutto allora ragazzi mi sembra che si legge abbastanza bene vediamo un po sembra proprio che si legga bene belli anche questi disegni non so di cosa stiano parlando perché ecco qua nelle venture di Tenten guardiamo la scheda tecnica vicino un po il telefonino così potete leggerla meglio ci sono tante informazioni molto utili della storia di questo modello di come nasce e tante curiosità come questa così forse non riuscite a leggere ma se alzo il telefonino si ecco faccio che fare così che meglio qui abbiamo le fasi i contenuti di questo fascicolo li vedremo successivamente stessa cosa anche qui ragazzi andiamo avanti qui idem ecco questo invece è da leggere che sicuramente è interessante qui abbiamo proprio tutta la storia della Citroen a me piace molto questo modello ma quello che più mi affascina di questo modello è la storicità dell'auto e qui certamente ragazzi la storia non manca ok abbiamo finito con i contenuti del fascicolo per quanto riguarda i testi questa è la macchina vera che ci mettono qui come anche nell'altro precedente è la finale di copertina allora ragazzi andiamo subito a prendere i contenuti ah 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 se non cadi non sei contento devo fare una playlist e l'ho già detta con delle comiche secondo me lì ho successo allora ok allora ok allora ragazzi andiamo a vedere subito i contenuti qui a parte la pinzetta e forse anche la targa abbiamo il metallo ma andiamo subito ad aprirlo vediamo se ce la facciamo così allora buttiamo già questa perfetto allora vi dico subito il materiale abbiamo una serie di viti DP però attenzione perché qui come abbiamo detto nel precedente fascicolo il numero 3 qui andiamo a terminare un'altra fase del motore vi ricordate questi due pezzi qui e quindi dobbiamo andare ad usare una due serie di viti che sono contenute nel terzo fascicolo le AP e le AM se non sbaglio poi comunque vedremo allora andiamo a vedere un po' cosa c'è no allora qui innanzitutto ci danno la possibilità di personalizzare la nostra targa come più ci piace ci sono tutte le lettere dell'alfabeto per ben due volte perché ovviamente c'è anche la targa posteriore anzi tre volte uno due tre di queste ne abbiamo due ma ce n'è di numeri qua tutti adesivi bellissimi allora sono adesivi ragazzi con lo spesso hanno un certo spessore sono in rilievo molto belli quindi andiamo a mettere a parte questo qui abbiamo il portatarga pensavo di ferro ma è metà è di metallo ma è plastica ma beh poco importa e poi abbiamo la che bella guardate questa mascherina quanto è bella plastica però bellissima questo è metallo la retina dentro è di metallo allora via 1 via 2 le pinzette le pinzette le leviamo perché non ci servono ci servono se andiamo a mettere i numeri alla targa le lettere ma in questo caso non lo farò deciderò poi come targare questa autovettura alla fine della collezione ho tutto il tempo che voglio quindi torniamo a noi ecco vedete abbiamo la pinzetta come vi ho appena detto la calandra che è questa la targa anteriore che è questa il set di lettere che abbiamo visto ce n'è finché ne vogliamo qui e le mettiamo momentaneamente da parte e una serie di viti di P quindi per plastica P plastica vi ricordate andate a vedere i filmati precedenti video precedenti che è tutto spiegato colore e tutto allora andiamo a vedere cosa ci dice qua con ogni fascicolo ricevi alcuni pezzi per il montaggio della tua citroen 2 cavalli charleston a volte alcuni di essi verranno utilizzati nel sessione di lavoro successive e vanno quindi conservati con cura ecco come infatti le due serie di viti del numero precedente si useranno qua qui abbiamo la fase del montaggio del motore la seconda parte prosegui l'assemblaggio del motore cominciato nel fascicolo 3 per fare ciò recupera i coperchi posteriori i coperchi il posteriore e il superiore del cambio e le viti AM e AP eccole qui quelle che vi dicevo prima che erano contenute nel fascicolo 3 rimaste inutilizzate quindi qui come vi ho detto ho già messo il pezzo che si era staccato ricordatevi ragazzi che è molto fragile lo rompete facilmente quindi non mettete mai il dito qua sopra io purtroppo ho sbagliato perché ero troppo attento a guardare il telefonino a spiegarvi ma se voi montate e non dovete fare nessun video non correrete sicuramente questo rischio non mettete il dito qua sopra allora posiziona il coperchio posteriore del cambio 37 che è questo sulla parte posteriore del blocco motore cambio il coperchio devi fare attenzione che ha un perno che deve entrare nel foro della faccia posteriore del blocco motore cambio allora cerchiamo di capirci è questo qui voi girate il motore così guardate poi ci sono delle istruzioni che sono proprio esaurienti guardate comunque voi posizionate sempre il pezzo come la foto e non vi potete sbagliare quindi andiamo a prendere questo e lo andiamo a mettere qua ok così fatemi solo vedere una cosa ecco qua ragazzi qui c'è qualcosa che non va fatemi vedere allora mi sembra che questa sbavatura vada tolta sicuramente questa sbavatura qua non vi permette di far entrare il pezzettino correttamente dentro riprovo ma non si può così ma si me lo fa entrare lo stesso non serve toglierlo mi riferivo non certamente a questo perno ma a questo qua però non serve toglierlo perché è più bassa di questa linea qui quindi la battuta ce l'ha sicura ok proviamo anche qui ragazzi attenzione non pressate qui che rompete usate sempre le due dita pollice indice qua sopra e non fate nessun'altra pressione allora ci dice in modo abbiamo detto che la placchetta va inserita nella rientranza sulla parte superiore del blocco in modo che i fori dei due elementi corrispondano quindi parliamo di questo foro qua ovviamente e questo foro qua quindi questo lo facciamo entrare qui e questo corrisponde lì perfetto chiediamo pagina e ci dice di mettere una vite AM una volta che il coperchio posteriore del cambio 3-7 è in posizione fissalo stabilmente con una vite AM come illustrato nella foto andiamo a prendere la vite AM ricordatevi che M indica che va messa nel metallo e infatti questa è plastica ma quello sotto è metallo lo centrate bene vedete e inserite la vite allora qua si muove ancora posso stringere appena appena ma non esagerate ragazzi perché lo rompete perfetto basta così anche se a me è così ok si è alzato e si è abbassato ecco poi controllatelo qua dietro deve andare a battere qua comunque quel pezzo che vi ho fatto vedere prima dell'iniezione il pezzo di fusione lo potete togliere non serve a niente allora e questo abbiamo fatto poi passo 3r ti mostriamo il coperchio posteriore del cambio correttamente installato sul blocco del cambio ed eccolo qui abbiamo appena visto è perfetto guardate che questa linea questa linea questo tubo è un po inclinato deve essere così non vi fate problemi non pensate che sia sbagliato vedete che ho sposto questo un attimo vedete che è un po inclinato a sinistra non ci sono problemi così è così lo teniamo poi ci dice colloca il coperchio superiore del cambio 3 trattino 6 cioè questo nel suo alloggiamento sopra al blocco motore cambio cioè qua inserisci il perno del coperchio nel foro del blocco e fai combaciare i fori presenti sui due pezzi in questa coppia di fori dovrai serrare una vite di montaggio AP quindi quella per la plastica andiamo a prendere la AP e questa ce l'hanno data sempre nel numero 3 ok allora io me la passo prima questa mi creo il filetto piano piano e poi metto il pezzo successivamente voi ragazzi fate come volete io vi consiglio così non non serve arrivare fino in fondo ok vado a toglierla e vado a inserire questo quindi questo questo perno qui va inserito qui e questo va qui perfetto centrate il foro interno qua vedete questo si muove molto lo centrate e avvitate basta ragazzi non esagerate perché spaccate il pezzo di plastica mi raccomando quando fate questo lavoro ricordatevi sempre questo pezzo qui e l'altro pezzo di là perché sennò lo staccate ok ragazzi fatto questo il blocco motore è finito guardate ok il blocco motore è finito lo mettiamo da parte chiudiamo i sacchetti con le viti avanzate così non le confondiamo aspettate perché allora cosa ci dice ancora qui AP l'ho già messa eccola quasi sono andata avanti non avevo letto questo ed è semplicemente quello che ho appena fatto adesso il blocco motore qui FB è finito vedete qui ci danno una nota tecnica molto interessante anche se i sacchetti sono scritti con le lettere non vi potete sbagliare ma ci dicono per distinguere le viti fai riferimento al disegno a lato che ti permette questo di verificare le misure esatte di ciascuna di esse per unire correttamente i pezzi le viti devono essere ben serrate ma senza esagerare con la forza altrimenti i componenti potrebbero danneggiarsi ok ragazzi e questo lo sappiamo però purtroppo poi capita che ce lo dimentichiamo e danneggiamo il pezzo e cerchiamo di non farlo accadere a questo punto andiamo a prendere l'uscita numero 1 quella per capirci quella da 50 centesimi il cofano anteriore eccolo qui e ci dice passo 4a avvicina la targa 4 trattino 3 al cofano motore 1 la targa presenta due perni che corrispondono ai fori sulla parte anteriore del cofano quindi questi qua sto solo guardando se metterlo da una parte all'altra è la stessa cosa sia così che così ma se non ci sono le frecce è evidente che si almeno penso no 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 allora così non lo potete mettere ci sono le frecce no e ragazzi vi spiego subito una cosa guardate quando montate il pezzo qui vedete che la plastica è più alta del metallo è più alta di questo non va bene dovete metterla così cioè si deve vedere il metallo qui e qui deve essere a filo e la mettete così perfetto poi ci dice applica la targa 4 3 sul cofano motore 1 per adattarsi preferivamente al cofano la targa ha un verso di inserimento specifico e l'abbiamo appena detto è tutto qua ragazzi quello che vi ho detto non ci sono problemi controlla di aver orientato correttamente la targa queste immagini mostrano come deve essere disposta rispetto al cofano a destra il posizionamento corretto questo è corretto con la V la X chiaramente no ed è quello che vi ho appena detto adesso io va bene ragazzi sono troppo avanti qui nel senso che sono troppo bravi hanno scritto veramente tutto così si evitano tutti gli errori capovolgi il cofano a questo punto e fissa la targa con due viti DP inserite dall'interno conserva le viti successivamente DP rimaste inutilizzate ti serviranno nella prossima sessione di lavoro quindi andiamo a mettere due viti DP qua dietro una e due metto in pausa un momento ragazzi perché tanto non serve che vi faccio vedere eccoci di modo di ritorno ragazzi ho messo in pausa oltre che per avvitare la vite abbiamo detto la BP una e due anche perché ho voluto guardare una cosa allora solo qualche cosa vi aggiungo queste viti sono molto piccole quindi il cacciavite dovete stare molto attenti a usarlo questo se ne avete uno ancora più piccolo come punto è meglio ce la fate però io ho usato questo che è ancora più sottile sono andato meglio perché sono più sottili queste quando lo fate ricordatevi che qua deve essere in piano perché un po di gioco c'è sempre quindi mettetelo in piano voi qua non deve spuntare fuori la targa ok e quando lo fate appoggiatelo su un piano d'appoggio che non vi si rovini la vernice qui quindi mi raccomando attenzione avvitate questo quando arrivate che sentite che è arrivato già contro vi fermate basta che non balli la targa stavo anche guardando che la calandra secondo me si potrebbe già montare si potrebbe già montare però io non la monto perché qui me la fanno vedere ma non mi fanno vedere le istruzioni quindi secondo me ripeto si potrebbe già montare ma atteniamoci a quelle che sono le istruzioni ok ragazzi allora questo video termina qui con queste fasi completate guardate quanto è bello abbiamo aggiunto questo e questo e abbiamo queste qui che sono tutte le lettere poi che ci hanno dato per poter scegliere che targa vogliamo quindi personalizzarla leviamo questo perché non ci dicono ancora di metterlo mettiamolo qui ecco qui perfetto bene ragazzi il video termina qui io non ho diciamo ho avuto nessun tipo di problema a montare questi pezzi perché sono veramente sono stati poi tre pezzi tre pezzi avete visto anche voi però sono contento questo modello è veramente bello l'ho già detto lo so però perché non dirlo se è vero io vi consiglio di farlo ragazzi se vi se amate questa macchina fatelo ovviamente compatibilmente con quelle che sono le disponibilità economiche di ognuno di noi ci mancherebbe ragazzi Michele vi saluta vi ringrazia del vostro tempo ricordatevi sempre che ogni mio video è sottotitolato in 25 lingue per permettere anche a coloro i quali non sono italiani di poterne comprendere i contenuti non soltanto di guardare le immagini e se vi sono piaciuti i video e gli interventi che posso consigliarvi per evitare danni iscrivetevi al canale ragazzi attivate la campanella per essere sempre aggiornati ai miei nuovi video e vediamo come va ragazzi grazie veramente del vostro supporto un saluto da Michele al prossimo video ciao ragazzi ciao